Qui Televenezia. Mira! Partiranno il lunedì prossimo i lavori sul ponte girevole di Porto Menai. Ad annunciarlo è l'assessore alla mobilità della provincia di Venezia Emanuele Prataviera. Dopo le tante proteste dei cittadini che chiedevano interventi immediati per la risistemazione del fondo stradale del ponte, la provinciale 22 chiude al traffico fino al 5 novembre. L'assessore Prataviera ha però dichiarato che l'intervento era già in programma da tempo e il cantiere servirà per sistemare la pavimentazione del ponte girevole che ora versa in pessimo stato. Una ditta specializzata dovrà quindi risolvere il problema dell'aderenza dell'asfalto alla soletta di acciaio del ponte per evitare che si formino ancora buche e crepe.